Stiamo per lasciarci alle spalle un anno veramente ricco di avvenimenti. Allora, ne abbiamo scelti alcuni per sottolineare i tanti momenti e ne vogliamo parlare proprio con l'amico, detto tu, di uno mattina, Aldo Cazzullo, editor realista del Corriere della Sera e scrittore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io direi di iniziare con la prima foto. Ecco, la vedete, la foto che si riferisce all'arresto di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio scorso, individuato a Palermo, mentre si recava, mentre stava andando a fare la chemio per un tumore al colon che poi lo ha ucciso il 25 settembre. Una foto molto rappresentativa, lo Stato contro la mafia, contro le organizzazioni comunque mafiose del nostro paese. Sì, resta molto da chiarire, una latitanza troppo lunga, era di fatto un malato terminale, però io ho fatto il cronista in Sicilia da giovane, c'era Pietro Grasso, procuratore di Palermo. Arrestare un mafioso è una cosa molto complicata, si rischia la vita a ogni passo, quindi da cittadino mi sento di ringraziare le forze dell'ordine per quello che hanno fatto. Altra foto, vediamo la seconda, ed è il 14 giugno scorso, un uomo che ha segnato veramente profondamente 30 anni di vita italiana come persona, come politico, come imprenditore, la scomparsa di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha cambiato tutti i campi in cui ha lavorato, l'edilizia, la televisione, il calcio, la politica. In politica abbiamo avuto due Berlusconi, all'inizio un populista antisistema e alla fine invece un nonno saggio che cercava un po' di tenere a bada i nipotini. Sicuramente una figura divisiva, molto amato, molto odiato ai posteri Lardua Sentenza. Dobbiamo dire che ancora se ne parla ed è come se fosse realmente molto presente, tra l'altro. Abbiamo visto anche dei ringraziamenti l'altro giorno, ieri proprio nel Mediaset. Ma vedi, non a tutti gli italiani piaceva Berlusconi, a tantissimi sì, ma a lui gli italiani piacevano molto. Lui non voleva cambiare gli italiani, a lui gli italiani piacevano così com'erano e alla fine poi ci ha cambiati più di quello che avevano fatto altre politici che invece sognavano di far di noi un popolo guerriero senza grandi risultati. E allora adesso terza foto che veramente non avremmo mai voluto vedere e non avremmo voluto mai raccontare l'attacco a Israele e guerra 7 ottobre. Ricordiamo poi in questo anno due guerre, perché poi la guerra nel Golfo, nella striscia di Gaza e la guerra nell'Ucraina. Tra l'altro dobbiamo dire che i bombardamenti continuano ancora ad esserci e non sembrerebbe che ci sia poi la tregua. Massimiliano, è una guerra terribile perché è una guerra in cui ognuno vuole distruggere l'altro. Hamas vuole distruggere Israele e il 7 ottobre è attaccato con lo scopo di uccidere più ebrei possibile, una cosa terrificante da condannare, ricordiamocelo sempre, e dall'altra parte Israele vuole distruggere Hamas. Eppure alla fine un compromesso andrà trovato, probabilmente Hamas dovrà lasciare la striscia di Gaza perché fino adesso si è fatto scudo dei civili e ne sono morti troppi, si è versato troppo sangue. Per cui io lo spero che la comunità internazionale e l'Europa dovrebbero essere in prima fila trovi una soluzione per mettere fine a questa carneficina. Ecco, noi abbiamo voluto scegliere anche quest'altro argomento proprio per mettere fine a quello che sta accadendo e purtroppo quest'anno ha segnato troppe vittime, quando parliamo di femminicidio. Giulia Cecchettin, quindi questa è la foto, facciamo rumore per non dimenticare Giulia. Devo dire che è entrata anche in modo forte all'interno delle scuole, se ne è parlato tanto e se ne continua ancora a parlare, il governo stesso ha fatto tanto, sono stati fatti anche addirittura 40 milioni sono stati stanziati proprio per le famiglie vittime di femminicidio oltre a quelli stanziati poi dal governo. Certo, però i femminicidi vanno evitati. Ce ne sono ancora stati dopo Giulia, però Giulia ha segnato veramente una svolta. Giulia Cecchettin sarà il primo ricordo per una generazione di bambini, sarà per una generazione di adolescenti il momento di ingresso nella vita pubblica. Ecco, fare il rumore per Giulia è il modo in cui tanti ragazzi hanno cominciato a occuparsi degli altri, della vita sociale. È stata una tragedia terribile, un po' tutti ci siamo affezionati a lei quando la si stava cercando ed è passato un concetto molto importante. La violenza contro le donne è anche una responsabilità di noi uomini, Massimiliano, perché sono gli uomini che devono cambiare e fare cambiare i violenti che ancora si considerano proprietari del corpo e dell'anima della donna e non sono disposti a riconoscere la libertà della donna di uscire con chi vuole, vestita come vuole, di amare chi vuole, di sposare chi vuole. Ne abbiamo parlato proprio qui in studio con l'onorevole Semenzato, la presidente della commissione del femminicidio, dove anche noi stessi, noi conduttori, dovremmo andare a pesare le parole che andiamo ad utilizzare. Andiamo avanti, la quinta fotografia. E qui Roma perde. Roma perde l'Expo 2030, che invece se la giudica l'Arabia Saudita. 167 voti per Riad e 17, quindi pochissimi, per Roma. Ce la siamo giocata proprio male. Terza, dopo Busan. Io ti confesso che Busan non l'avevo mai sentita nominare. Andiamo avanti, abbiamo sbagliato, dovevamo fare forse i giochi olimpici, Roma però resta una città meravigliosa. Adesso tutto è dire che Roma fa schifo. Non è vero. Roma è stupenda, può essere amministrata meglio, dobbiamo prendercene cura, ma resta secondo me la più bella città del mondo. E allora, proprio per questo, guardiamo invece un articolo che mi fa veramente piacere. Guardate un po' qui. Ecco, il saggio di Aldo Cazzullo è il più venduto a Natale. Oltre 215 mila copie. Allora, posso dire una cosa, Aldo, che comunque sia la prima uscita che hai fatto è stata proprio qui ad Uno Mattina. Siamo entrati con la musica del gladiatore, come per fare un duello, tipo quello tra Zuckerberg e Masch. Mi hai portato fortuna, ti ringrazio. Siamo contenti, è piaciuto, piace veramente tanto. Come mai? Perché vorremmo veramente quella Roma? Quell'impero romano? Perché secondo me gli italiani, in fondo, sono più legati all'Italia di quello che pensano di essere. E questo orgoglio nazionale noi ce l'abbiamo. Sai, duemila anni fa qui in Italia è nata una civiltà che ci hanno copiato tutti, che è stata esportata in tutto il mondo. Tu pensi soltanto al cinema, il cinema di Hollywood. Venivano qua a girare Benur, Quo Vadis, La Tunica e fino al gladiatore. Tutte le arti hanno copiato Roma. Roma è più viva che mai. Se tu vai al Pantheon, non è un monumento morto. È sepolto il re che ha fatto l'Italia, è sepolto Raffaello, che si calava nella reggia di Nerone per copiare le decorazioni romane. E poi tutti i grandi artisti che si sono ospirati a Roma antica. Insomma, c'è da essere orgogliosi di essere italiani. Questo libro ne dà qualche ragione in più. Il Pantheon, tra l'altro, il tempio più antico del mondo, è ancora lì, perfetto. La cosa di cui veramente andiamo orgogliosi come italiani, il fatto che verrà pubblicato in Francia, Germania, Spagna e Brasilia. Quindi, grazie comunque a te, l'Italia e la storia dell'Italia e far conoscere il nostro paese nel mondo. Sì, anche negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma in realtà non è mio, vuol dire che non soltanto noi italiani siamo orgogliosi di esserlo, ma anche c'è un grande interesse a tutto quello che è italiano. Del resto, Roma è stata copiata dappertutto, Senato, Repubblica, Popolo, Giustizia, Libertà, sono parole che si dicono così anche in America, anche in Germania. E l'Aquila, che non a caso ho messo sulla copertina del libro, è stata il simbolo di tutti gli imperi, dallo Zar al Kaiser, parole che derivano da Cesare. E oggi, qual è il simbolo degli Stati Uniti d'America? È l'Aquila. Quindi vedi che l'interesse... In fondo, anche in America, anche in Inghilterra, anche in Francia, in Germania, quando leggono di Roma, leggono di se stessi. Perché quello che noi chiamiamo Occidente, che è la peggior parte del mondo in cui vivere, tranne tutte le altre, è una costruzione che si erge sulla fondamenta dell'antica Roma. E se noi oggi preghiamo Gesù, se il Papa è a Roma, se siamo cristiani, perché Roma diventò cristiano? Quando eravamo i padroni del mondo? Allora, aspetto qua, 2024 per un milione di copie. Questa non sarà facile, ma grazie a te ce la posso fare. E buon compleanno, se vi darò se posso. Grazie, grazie. Auguri, buon Natale, Aldo Cazzullo. Grazie.